Buonasera, benvenuti. Una breve presentazione prima di iniziare. L'Associazione San Michele Arcangelo nasce a Ravenna nel 2016 per opera di alcune persone che decisero di proporre nell'ambito del territorio le tematiche legate al cattolicesimo tradizionale. In questi anni abbiamo organizzato diversi eventi e ospitato a Ravenna personalità del mondo cattolico e laico. L'Associazione non ha fini di lucro, ma ha la finalità di promuovere iniziative culturali pubbliche, nello specifico convegni, conferenze, presentazioni di libri, volti ad approfondire temi inerenti alla teologia, alla storia, alla spiritualità, alla liturgia, all'apologetica, ecc. L'Associazione è aperta alla collaborazione di chiunque ne condivida i principi non negoziabili di difesa della civiltà cristiana, del diritto naturale e della vita della persona umana dal suo concepimento alla sua fine naturale, sulla base degli insegnamenti intramontabili e ininterrotti del Magistero Pontificio. Attualmente siamo 70 soci. Per chi volesse associarsi, io rimango a disposizione al termine della serata. Abbiamo un canale YouTube dove potete visionare tutti i video caricati, una pagina Facebook dove inseriamo le iniziative. Sono molto felice ed onorato della presenza questa sera a Ravenna del professor Franco Cardini. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito a presentare il libro La deriva dell'Occidente, edito dalla Terza. So che deve parlare anche l'avvocato Minutillo per presentare la sua fondazione. Passo il microfono. Ma sì, io faccio veramente un breve saletto per... Perché come fondazione a memoria predabile abbiamo fatto diverse iniziative a sostegno della tutela, della divulgazione, delle posizioni, della conoscenza di aspetti che sono tra i più controversi o comunque poco discursi. Ecco, la serata di questa sera è interessante proprio perché nel conflitto fra Israele e la Palestina è emerso un'altra volta come la comunicazione dei mass media sia qualcosa di clamorosamente controllato. Abbiamo già avuto la riprova durante la pandemia del Covid, l'abbiamo riavuta durante la narrazione della guerra tra la Russia e l'Ucraina e ce l'abbiamo un'altra volta. Quindi parlare di questi temi con un'informazione che non sia quella allineata a quella dominante è cosa buona e giusta ed è importante che venga appunto proposta. Quindi abbiamo aderito con convinzione al sostegno di questa serata come fondazione. Mi permetto di dare un'indicazione alla serata sul discorso Israele-Palestina che da cattolico ritengo quanto mai fuorbiante il discorso di soluzione andando ad indicare due popoli e due nazioni, io penso che invece ci dovrebbe essere un solo regno quello della Chiesa cattolica nelle terre sante. Se la città fosse veramente cattolica, la direzione solutoria sarebbe proprio questa. Vi ringrazio di questa serata e di questa occasione. Sono veramente anche interessato e incuriosito di sapere l'opinione del professor Cardini su questo tema così importante e soprattutto così difficile da comprendere non avendo condizioni anche da dove vengano tutti questi problemi e che storia abbiano. Grazie. Ci sono domande, osservazioni preliminari, richieste di chiarimenti, per quello che posso, io non sono mica la Sibilla cumana, insomma, per quello che posso si possono anche chiedere dei chiarimenti a me. Io mi occupo dall'inizio degli anni Sessanta di rapporti fra il mondo dobbiamo dire occidentale, diciamo fra la cristianità europea, perché io faccio il medievista e quindi se io dico la cristianità europea, si potrebbe anche usare il termine cristianità occidentale. Dicendo queste cose pongo già dei problemi e quindi non le dico a titolo esornativo. Dire europeo e dire occidentale non è necessariamente la stessa cosa. Può essere la stessa cosa in certi momenti. quando Ottaviano e Antonio, spalleggiato a Creopatra, poi per la verità chi comandava la Creopatra, hanno fatto una guerra civile, l'hanno fatta sulla base di una precedente spartizione dell'impero, secondo una linea che partiva dal grosso modo dall'attuale Istria ad Almazia e tagliava, seguendo un meridiano, tagliava a metà il Golfo della Sirte. Era una linea che divideva la pars occidentis e la pars orientis della Respubblica Romanorum, cioè dell'ambito della parte di mondo incentrato sul Mediterraneo, che era allora dominato da Roma. Poi Roma stava scegliendo se continuare a dominare il mondo, che non era tutto il mondo, ma concettualmente questo potere si configurava come legittimamente in grado di allargarsi a tutto il mondo. Le prospettive erano quelle, erano del maestro culturale e spirituale di Giulio Cesare, cioè di Alessandro Magno. Fondare una monarchia universale, naturalmente la monarchia universale a Giulio Cesare e quindi prima di lui Alessandro Magno non gli era venuta da esempi come la piccola Grecia o l'Etruria o roba del genere. Gli veniva dai grandi esempi di monarchie sacre che nell'ellenismo, a partire da Alessandro, si conoscevano essenzialmente quella persiana e quella egizia. Poi naturalmente la Repubblica Romanorum doveva decidere se continuare a dominare il mondo sulla base di un corpo di nobili giuristi che esprimevano leggi, nel senso di quella che noi chiameremmo la continuità istituzionale, il senato, l'aristocrazia che guida la Repubblica o seppure questa grande estensione di terra si dovesse organizzare secondo i dettami del comando militare che in latino si dice Imperium. A questo punto guerra civile, vittoria ad Augusto, cioè d'Ottaviano che poi sarà chiamato Augusto in greco Sebastos dal senato, il quale si guarda bene dal dare ad Augusto, da proporre a Ottaviano degli appellativi che possono ricordare la monarchia. La monarchia è un territorio maledetto nell'ambito della storia romana, monarchia vuol dire tirannia, vuol dire barbarie, quindi il capo della Repubblica Romanorum non può essere un tiranno. Hanno fatto una mezza eccezione, una parte, quella meno intelligente, meno colta, meno preparata del senato, ha fatto un passo falso quando ha offerto la corona a Cesare, la corona regia a Cesare e Cesare l'ha rifiutata per tre volte, ma ha accettato la dittatura a vita. Più tardi, molti secoli più tardi, nove secoli più tardi, più o meno, il generale Bonaparte, dopo aver accettato la dittatura a vita, col titolo di primo console, accetta di diventare empire de français, empire de la République française. Quello che ci sfugge è che l'impero bonapartista non è un'istituzione monarchica, è un'istituzione repubblicana, esattamente come l'impero romano. Gli imperi che c'erano stati nel mezzo no, erano un'altra cosa, erano i risultati di un iter che aveva recuperato il senso della regalità sacra, eccetera, e quindi erano monarchie che si proponevano come monarchie sacre. Il modo cristiano di dire che una monarchia era una monarchia sacra, si dice una monarchia di diritto divino, per grazia di Dio, la volontà della nazione ce l'hanno messa dopo, a partire dall'Ottocento. Questo è lo schema che bisogna ricordare. Questo schema parte da una distinzione fra una pars orientis e una pars occidentis. Pars orientis e pars occidentis è per la semplice ragione che la linea divisoria che deve dividere a metà, più o meno, il Mediterraneo è evidentemente una divisione longitudinaria e quindi conosce un Oriente e un Occidente. Certo è strano, è strano perché Oriente in lingua accadica si dice Asu, che è la parola da cui è derivata l'Europa. Uno si mette al centro del Mediterraneo, a Oriente all'Asia, il luogo da cui sorge il Storia dell'Europa e la storia dell'Occidente, fra la storia dell'Asia e la storia dell'Oriente, certamente è un legame che però è essenzialmente un legame linguistico e quindi culturale. Poi questo legame linguistico e culturale si veste anche di valori storici, però bisogna tenere presente che Oriente e Occidente sono realtà a geometria variabile, proprio per la capacità dei due termini di aderire alle situazioni più varie. Il problema della divisione fra Oriente e Occidente si ripropone con Teodosio. Teodosio alla fine del IV secolo ha un impero che è troppo grande. Le comunicazioni sono più o meno quelle che c'erano tre secoli prima, per terra con quadrupedi oppure con pedoni che andavano di corsa, per mare con navi a remi e a vela fissa, perché non c'è la vela mobile, le abbiamo inventate noi, noi occidentali, europei fra due e cinquecento per poter navigare liberamente, ma è un'invenzione che fa parte della cosiddetta eccezione occidentale. È una di quelle invenzioni che hanno cambiato definitivamente il mondo e l'eccezione occidentale è una grande rivoluzione che si disloca tra il XIII e XVI secolo circa. Le differenze, le rivoluzioni, le innovazioni ci sono sempre state, anche le rotture storiche, le invasioni sono una rottura storica senza dubbio, le rivoluzioni sono una rottura storica senza dubbio, ma la grande svolta si ha con il dispiegamento dell'eccezione occidentale. L'eccezione occidentale merita qualche parola a parte e quindi la diciamo fra un attimo. Andiamo a Teodosio che riprende le fila di Augusto, o meglio di Ottaviano che il Senato aveva definito Augusto, in greco Sebastos, cioè colui la cui fama e la cui perfezione morale è destinata a crescere fino a diventare qualcosa di divino. E tutto questo evidentemente per dare al potere un valore sacrale, ma a girare nello stesso tempo il termine di re, che è un termine che a Roma non si può usare, che è un termine maledetto. L'Augusto poi diventerà, Augusto come Cesare, diventeranno due vocativi per indicare il sovrano supremo nell'impero romano, che passeranno anche all'età moderna. Del resto erano passati all'età antica i parti, cioè quella popolazione iranica che aveva invaso l'altipiano persiano verso il II secolo a.C., aveva fondato una monarchia e questa monarchia la portò fino al II secolo d.C., poi arrivarono i Sasanidi, che erano persiani anche loro, ma abitavano nel Farsi, cioè più a sud, e loro assunsero anche loro il termine di Cesar, si dovrebbe di Cesar perché il latino non ce l'ha alle dolci, il latino ha solo culturali dure, il termine di Cesar per indicare il sovrano supremo. Certo lo dicevano in persiano e lo chiamavano Shah. Più tardi, a metà del Cinquecento, Ivan III, gran principe di Moscovia, decide a sua volta che siccome ha sposato una principessa bizantina dell'ultima propaggine degli imperatori bizantini che sono imperatori romani d'Oriente e siccome l'impero romano d'Oriente è stato distrutto dai turchi, lui prende il nome di Cesar, ma lo dice in russo, Tsar, nello stesso tempo, esattamente nello stesso tempo, il sovrano di Costantinopoli, che era ormai la Turca Istanbul, che in quel momento è Solimano, noi lo chiamiamo Solimano il Magnifico, i popoli musulmani lo chiamano Suleyman al-Kanuni, cioè Solimano che ha restaurato il Canon, la legge, che non è la Sharia, è il diritto giustinianeo, Solimano restaura il diritto giustinianeo che del resto non era mai passato in predicato, i turchi avevano preso l'impero bizantino e avevano capito che quel diritto andava benissimo per l'impero, l'avevano qua e là islamizzato, ma il minimo indispensabile, era il diritto di giustiniano, il Canon, la legge per eccellenza e naturalmente anche Solimano si rende conto che a quel punto lui si deve presentare come sovrano universale e adotta un termine che i suoi soldati usavano già da prima, che era una parola turca ma passata attraverso il persiano, padisha, che vuol dire il signore di tutti gli imperatori del mondo, l'imperatore a sua volta, quindi quando è caduto l'impero romano? Nel 1453? Ma l'hanno restaurato immediatamente i turchi e dopo un po' anche i russi? Nel 1918? Quando cade anche quell'impero che ormai non era più il sacro romano impero del medioevo, che era quello meno adatto a rappresentare la continuità con l'impero romano, perché non c'era stata, nel mezzo c'è stata la caduta dell'impero romano d'Occidente, poi la ripresa con Carlo Magno, poi la ripresa con Ottone, però gli imperatori che alla fine sono diventati gli imperatori di casa d'Austria hanno sempre sottinteso che in fondo loro erano i successori degli imperatori del sacro romano impero, tutta questa costruzione imperiale, latina, greca, turca, anche iraniana, russa naturalmente, cade come neve al sole, tra il 1918, rivoluzione d'ottobre, anzi, già con la rivoluzione menscevica del marzo, perché la monarchia è dichiarata decaduta allora, non a ottobre con i bolshevichi. Poi cade anche evidentemente l'impero d'Austria, nel 1918, la fine, per altri motivi, nel 1920 viene rovesciato anche l'impero persiano, che viene ripreso da un nuovo Shah, che però è un militare, Reza Shah, che riprende le forme dell'antico impero, ma dichiara che il suo impero deve essere sentito come un impero laico, come un impero sciolto da valori religiosi, perché il modello di Reza Shah, nel 1920, era il modello desunto dalla Repubblica Turca, che aveva rovesciato il Sultanato, quindi rovesciato questo ultimo successore del San Romano Impero, e gli aveva sostituito una Repubblica rigorosamente laica, più laica possibile, retta da un generale turco, un genio militare, che era anche un uomo che aveva fatto l'accademia nelle accademie militari tedesche dei primi del Novecento, lì aveva assorbito gli ideali massonici, aveva fondato con altri ufficiali turchi due cose praticamente, le logge massoniche turche che si espandono in tutta la Turchia e il movimento dei giovani turchi, che peraltro c'era di già prima, ma a cui Mustafa Kemal dà un senso, un significato definitivo, nel 1918 c'è la sparizione dell'ultima impronta visibile sostanziale dell'impero romano, il quale non era in fondo di per sé stesso né orientale né occidentale, ma aveva un ramo orientale e un ramo occidentale. Che questi termini restino fermi nell'immaginario collettivo, lo dimostra una serie di fonti, ora se io ho fortuna, mi passa la cosa? Ecco, se io ho fortuna perché non me lo sono segnato, perché vale la pena di perderci qualche minuto, non di più, vi leggo un brano, che forse se ho fatto bene l'indice dei nomi lo trovo subito, l'indice dei nomi, mi accorgo adesso che il maledetto la terza non me l'ha segnato, non me l'ha messo evidentemente per risparmiare spazio e carta, vabbè, allora ne faccio a meno, perché altrimenti ve lo recito a memoria o quasi, ma mi dispiacerebbe perché è molto impressionante e chiarisce molte cose che altrimenti dovrei spiegare con un grande dispendio di parole. Eccolo, prima crociata, alla fine la prima crociata la maggior parte di questa gente più o meno disorganizzata e raccoglitriccia torna in Europa perché la crociata è un pellegrinaggio, si fa il pellegrinaggio a Gerusalemme e poi si torna in Europa, però nel frattempo i principi avevano guidato la crociata e loro avevano un'altra intenzione perché loro avevano partiti come mercenari dell'imperatore di Costantinopoli per guadagnare dalle guerre che l'imperatore di Costantinopoli voleva fare in Oriente per garantirsi contro una nuova ondata barbarica, quella dei turchi selgiuchidi che aveva sostituito i vecchi emirati arabi che c'erano nel vicino Oriente che erano più o meno ormai diventati innocui, anzi si commerciava fra noi e loro, si viveva in armonia poi arrivano i turchi e i turchi sono una realtà, tanto sono musulmani ma convertiti da poco quindi hanno l'entusiasmo dei nuovi convertiti e poi sono un popolo guerriero, un popolo conquistatore la crociata nasce sulle basi della reazione, anche se è una reazione malintesa le notizie circolavano ma non in tempo reale, i crociati si muovono nel 1995 sulla richiesta di Papa Urbano II, il quale aveva accolto un'indicazione, anzi una richiesta d'aiuto dell'imperatore d'Oriente, il cosiddetto Basileus, che era il titolo greco che si dava all'imperatore che era partita vent'anni prima dopo una battaglia tra bizantini e turchi che era stata perduta tragicamente dai bizantini, noi bizantini avevamo bisogno di questi barbari pesantemente armati che erano i germani o i franchi come si chiamavano, si chiamavano proprio così i francoi, i quali erano i guerrieri dell'occidentale che erano portatori di un nuovo sistema militare di combattere a cavallo pesantemente armati con cariche in profondità che si riteneva adatto a fronteggiare i turchi meglio degli eserciti bizantini che adottavano una vecchia, vecchie tattiche desunte dall'impero romano e allora i principi erano partiti con i loro eserciti e dietro eserciti, poche centinaia di cavalieri, però un cavaliere non è una persona sola, è un'unità di combattimento, quindi ha almeno 3 cavalli e 5 accoliti, i cavalieri partivano per fare la loro guerra a servizio dell'imperatore d'Oriente come mercenari, dietro gli andavano dei pellegrini i quali non avevano nessuna intenzione di andare a fare la guerra, ma volevano semplicemente andare a Gerusalemme e volevano farlo scortati dai soldati perché così si sentivano meglio difesi, questa è la prima arrociata, dopo la prima arrociata la maggior parte dei pellegrini torna in Europa evidentemente, ha finito il peregrinaggio, però i principi non possono tornare, hanno tagliato i ponti con l'Europa, non ce l'hanno più le loro terre, le loro terre sono state prese da altri, si devono fare un ubicon system in Asia, intorno a Gerusalemme, nell'attuale area che più o meno è compresa tra gli attuali stati di Israele, Giordania, Siria, Libano, più o meno quest'area qua e fondano un regno crociato di Gerusalemme, il regno crociato, i re indipendenti non esistono mica nell'undicesimo secolo, per fondare un re bisogna che ci sia una volontà suprema, ecumenica, universale che lo legittimi, loro chiedono la legittimazione al Papa, hanno riconquistato il sepolcro di Cristo, sono andati lì perché un Papa gliel'ha chiesto al concilio di Clermont, il Papa gli darà una copertura giuridica, manco per idea, perché il Papa in quel momento è dominato da un grande fatto che è accaduto più o meno una cinquantina d'anni prima, lo scisma tra la Chiesa greca e la Chiesa romana e sia i Papi che gli imperatori d'Oriente sono abbastanza impegnati a cercare di ricucirlo. Ora è chiaro che questi personaggi che noi chiamiamo crociati hanno preso delle terre che erano occupate dai musulmani, gli arabi erano arrivati nel VII secolo e poi erano arrivati i turchi, però giuridicamente per la legge romana quella era la terra del sacro romano impero e apparteneva all'impero d'Oriente, quindi i crociati avrebbero potuto diventare solo vassalli dell'imperatore d'Oriente, lui non ce li voleva e loro non volevano quel tipo di governatore lì, quel tipo di capo lì che li avrebbe dominati e allora chiedono al Papa di diventare lui il sovrano eminente, come si diceva in termini feudali e di investire lui quello che avrebbe potuto diventare il re di Gerusalemme e il Papa non ci sta perché avrebbe dovuto con questo dichiarare di essere il sovrano di quelle terre e non lo era, l'imperatore d'Oriente si sarebbe sentito lesso nei suoi diritti, quindi il Papa risponde che non se ne fa di nulla e a quel punto colpo di scena, dalla prima crociata impresa che ha fatto sì che il santo sepolcro di Cristo diventasse patrimonio della cristianità e della cristianità latina, occidentale, europea, perché è quella che fisicamente ha preso il regno, da questa impresa nasce il primo regno laico d'Europa, il primo regno superiorem non recognoscens, perché nessuno lo vuole riconoscere, nessuno si può prendere la responsabilità di fare la copertura della sovranità ecumenica che potrebbe elargire legittimità internazionale, allora i guerrieri, i principi che hanno vinto la crociata decidono che questa legittimità se la fanno da soli e creano un re di Gerusalemme e naturalmente qualcuno, un certo numero di persone che aveva partecipato alla crociata accetta di restare con loro e di condividere questa idea. Benissimo, allora fra loro c'è un sacerdote che era un canonico della catternale di Chartres e come tale era andato alla crociata al seguito del conte Stefano, Stefano di Bluay di Chartres imparentato con il re di Francia, grosso feudatario francese che però era tornato in Europa. Questo suo chierico che era una specie di segretario, Fulcherio si chiamava, Fulcherio di Chartres ci ha lasciato una cronaca molto bella che poi è stata tradotta più volte, pubblicata, studiata e ci parla in domani della prima crociata, quando questi si trovano in una terra straniera capiscono che non possono più tornare in Europa, non ci vogliono nemmeno più tornare perché non hanno prospettive e decidono che quella è la loro patria e ci si trovano bene alla fine perché quella era una patria che i crociati avevano liberato dei precedenti padroni, per semplice fatto li avevano ammazzati o li avevano ridotti a doversene andare e quindi a questo punto la terra santa diventava una terra senza popolo e il nuovo popolo crociato avrebbe dovuto popolarla. Voi direte ma non c'è un'analogia con lo Stato di Israele? è, in un certo senso sì, solo nello Stato di Israele è stato fondato da gente che pretendeva, il movimento sionista, che quella fosse una terra senza popolo, però il guaio è che il popolo invece c'era, anche se non era abbondante e quindi ci si poteva entrare tutti. Il caso dei crociati è diverso, cosa dice Fulcherio di Chartres? Dice una cosa che a modo suo e per il tempo di cui parliamo ci chiarisce perfettamente cos'è l'Oriente e cos'è l'Occidente, lo leggo in italiano naturalmente, ormai noi altri che un tempo eravamo occidentali, si veniva dall'Europa, l'Europa è occidente, ormai siamo diventati orientali, ci siamo radicati in Oriente, quindi siamo orientali, chi fu latino o franco in questa terra è diventato siriaco o palestinese, perché abitano la Siria, abitano la Palestina, sono i nomi storici in cui loro si sono insediati, certo è un bel esempio di pretesa di Ius e Soli, ormai ci siamo dimenticati dei nostri luoghi nativi, la maggior parte di noi non ne ha mai visti, perché c'è la gente che era cresciuta al tempo della crociata, prendete un ragazzino di 14 anni, che è radicato dall'Europa, fa 4 anni di viaggio, 95-99, arriva a 18 anni, lui queste cose le scrive nel 1101, il ragazzino che è partito da 14 anni dall'Europa e che non si ricorda quasi nulla, nel frattempo diventa un ragazzo di quasi 20 anni, la maggior parte di noi non le ha mai visti o addirittura non le ha mai nemmeno sentiti nominare, ormai non sono più abituati ai vecchi nomi dei luoghi, che in questo caso sono luoghi francesi, che lui viene da Chartres, c'è già chi possiede le proprie case e i propri servi, come se fossero cose tramandateli in eredità, questa è una rapina che immediatamente è diventato un diritto di eredità e lui lo dice con la maggiore tranquillità del mondo e c'è anche chi ha preso in moglie non una compatriota, come si doveva fare, bensì una siriana, un'armena, siriana cristiana, armena cristiana o addirittura una saracena, si intende battezzata, magari contro la sua volontà ma battezzata. C'è chi ha preso con sé il suocero o la nuora, il genero o il figliastro e perfino il patrigno e qualcuno ha anche dei nipoti e magari dei pronipoti, questa è una terra nuova, una terra che dà grandi prospettive, si chiede a quelli che sono rimasti in Europa imparentati con chi ha fatto l'impresa, di andare lì, di andare in terra santa, di condividere questa nuova cosa. Chi si occupa delle vigne, chi delle messi, qui siamo favoriti dall'economia mediterranea, più o meno, uno abita in Toscana, in Lombardia, in Borgogna, in Provenza, va in Siria, va in Palestina, trova grossomodo lo stesso ambiente, un clima simile, culture più o meno simili. Tenete presente che siamo nel XII secolo, siamo come adesso nel XXI, siamo in un periodo di crescita climatica, siamo in un periodo di optimum, quindi non c'è nulla da meravigliarsi se le culture in Siria o in Europa sono più o meno le stesse. Due secoli dopo un francese del nord o un inglese fosse arrivato in Palestina avrebbe detto per dirci qua ci cresce bene la vigna, da noi non più o da noi no in senso assoluto, perché nel frattempo c'era stato un raffreddamento, due secoli dopo era cominciato il raffreddamento che qui comincerà verso il XXII, XXIII secolo, perché la sinusoide climatica ha una luce di mille anni, ogni mille anni il clima arriva all'optimum e poi cala, quindi c'è anche questa coincidenza climatica che li fa sentire a casa. Si usano di volta in volta lingue differenti per comunicare e questa per dirci è una cosa nuova, però lui lo dice tranquillamente, anzi è quasi contento. Dalla diversità del linguaggio è scaturita quasi una lingua comune che viene imparata da genti di stirpe diversa, mentre la medesima fede unisce popoli differenti, qui il collante è la fede cristiana, per il resto poi siamo diversi e si adegua la nostra diversità in maniera da potersi anche intendere. I coloni sionisti hanno fatto lo stesso quando hanno creato una neolingua neo ebraica da gente che ordinariamente parlava tedesco, parlava russo, parlava polacco perché i primi sionisti vengono da lì e che poi in poche generazioni ha imparato naturalmente a parlare un ebraico semplificato che è appunto semplificato però è l'ebraico della Bibbia e questa è la rivoluzione che gli israeliani hanno fatto. Qua il discorso è diverso perché una lingua, una coine dialectos c'è già, che è il latino, il latino si collega anche ai vari volgari presenti, poi naturalmente arrivano anche portati greci, portati arabi, qualcosa di ebraico perché c'erano anche gli ebrei e quindi si crea una lingua franca che poi la lingua diventerà la lingua di scambio del Mediterraneo. Chi era straniero ora è quasi indigeno ed il residente che non è nativo di un luogo ora è come se ci fosse nato. Nel nostro paese di provenienza era povero e questa è un'altra chiave. Qui Dio lo rende ricco. Chi aveva pochi soldi qui possiede mucchi di monete d'oro. Esagera eh? E poi lui è un membro della classe dirigente, mica tutti stavano come lui, lui era un canonico, era in collegamento alla classe cavalleresca, quindi, però l'elemento è comunque interessante. Chi non aveva neppure un potere, qui con l'aiuto di Dio è parlone di una città. E poi c'è la fine, è formidabile. Perché mai dovrebbe tornare in Occidente chi ha trovato un tale Oriente? Questa è una voce dell'inizio del XII secolo. Poi le cose naturalmente sono andate avanti. Poi l'Europa col Cinquecento ha deciso di espandersi su tutto il mondo. E come l'ha fatto? Come ha fatto? Con le conquiste, con le scoperte, con la navigazione, con le invenzioni. Sono state necessarie le invenzioni. Ora qualcuno di voi si metterà le mani e i capelli perché per la quinta volta mi sentirà produrre in uno dei miei cavalli di battaglia che è l'elogio della vela mobile. Ma sappiate, siccome ci sono molti che sono fanatici cultori della gloria e dell'Occidente, magari mi accusano anche di essere un anti-occidentale e un filo orientale, sappiano invece che se non ci fosse stata la vela mobile che è un patrimonio e una gloria esclusiva degli europei occidentali e degli europei delle coste, dei genovesi, dei veneziani, dei catalani, dei provenzali, di quelli che man mano che verso il Quattrocento c'era una nuova ondata di barbari che venivano dall'Asia. In questo caso erano stati i mongoli e poi sono arrivati i turchi ottomani, quelli che avrebbero conquistato Costantinopoli. I contatti con l'Oriente cominciavano a essere precari. La penetrazione in Oriente da parte di noi europei, pensate a Marco Polo naturalmente e ad altri. In quel momento era limitata perché questa nuova ondata non era troppo amichevole e allora bisognava limitarsi a prendere le merci dal lontano Oriente che arrivavano, le merci sono inarrestabili, le merci arrivano sempre perché ci si guadagna tutti dalle merci. Queste merci però non le potevano andare a prendere loro in Asia in maniera che costassero meno, se le dovevano far portare sulle coste e quindi la loro possibilità di penetrazione verso Oriente era ridotta e allora cosa fanno? Ovviamente pensano di sfondare verso Occidente, ma come fanno a sfondare verso Occidente? C'è l'oceano, l'oceano è innavigabile, perché? Balle raccontate dalla mitologia medievale, i mostri marini, i gorghi, no no, nulla di tutto questo, sì certo ci sono anche i gorghi e ci sono anche dei grossi animali marini, ma non sono loro. La verità è che con i mezzi del tempo una navigazione nell'oceano, dove i venti mutano spesso, era impossibile. Bisognava andare a forza di remi, ma a forza di remi non si può sorcare l'oceano, i rematori si devono riposare una volta al giorno e se non hanno un punto d'attacco non si possono riposare e nell'oceano questo non c'è. Poi c'è il problema dell'acqua, l'acqua finisce e non si può bere l'acqua di mare e allora che si fa? Bisogna inventare delle navi più agile, che possono cambiare rotta quando vogliono e possono approdare dove vogliono e dove è più opportuno. Come si fa? Si inventa un sistema di velature, di gomene, di carrucole, tale per cui alla vela di maestra, che resta centrale, si aggiungono delle vele secondarie che possono essere mosse secondo il vento. Quando il vento non arriva in poppa, le vele secondarie lo catturano e si comportano come se il vento fosse una palla, una palla da biliardo e lo respingono verso la vela di maestra e con questo sistema che nemmeno i grandi navigatori cinesi avevano inventato, noi abbiamo conquistato il mondo, così come abbiamo conquistato il mondo con la polvere da sparo e col cannone. Anche i cinesi usavano la polvere da sparo, gli sciocchini, ci facevano i draghi che volavano per aria, noi abbiamo trovato il modo invece di comprimere la polvere nera insieme con una palla di metallo o di pietra in una grossa canna di bronzo, puntarla contro il nemico, o meglio no, perché il nemico? Puntarla contro un interlocutore, così l'interlocutore cambia idea molto facilmente e ci dà ragione e con questo noi abbiamo conquistato il mondo. Non è una rivoluzione questa, questa è l'eccezione occidentale, la storia è fatta di rotture e di continuità, ma noi occidentali gli abbiamo dato il ritmo della cesura definitiva, da allora il mondo è cominciato a diventare irreversibilmente occidentale, secondo la nostra volontà, secondo i nostri interessi, secondo i nostri bisogni di materie prime, secondo i nostri bisogni di lavoro schiavizzato, perché il lavoro salariato evidentemente non ci bastava e costava troppo e noi abbiamo sottomesso il mondo, ma quando si sottomette il mondo bisogna avere delle buone ragioni, ragioni che tutti condividano, ragioni alte, elevate e gli andiamo a dire al mondo che li sottomettiamo perché li dobbiamo derubare? Ma non è nemmeno per idea, li sottomettiamo perché gli portiamo una cultura superiore, la cultura superiore la vedano subito, perché siamo tecnologicamente più abili e questa è una superiorità e poi c'è il resto, ci sono i valori invisibili, che sono valori più importanti di quelli visibili, c'è il nostro Signor Gesù Cristo che bisogna portare a tutto il mondo che non lo conosce, c'è la grande filosofia di Platone e d'Aristotile che per definizione è una filosofia universale, questo l'abbiamo deciso noi, non abbiamo chiesto il parere né dei brahmani, né dell'India né dei mandarini cinesi, abbiamo stabilito che Platone e Aristotile sono superiori a tutti gli altri e noi gli portiamo il nostro Dio e il nostro Dio lo abbiamo tradotto in un linguaggio che è quello scolastico, di Platone e di Aristotile, benissimo, ma questo non basta ancora, perché noi abbiamo fatto un'altra invenzione, un'invenzione definitiva, noi abbiamo inventato un modo diverso da ragionare, di ragionare, differente da tutti quegli altri mondi che siamo andati conoscendo man mano che li conquistavamo, gli indiani, cultura elevatissima, ci hanno insegnato tantissimo, ma non c'erano arrivati, i cinesi, figurarsi ancora meglio, ma non c'erano arrivati, perché tutti ragionavano sul principio della logica razionale, intesa in un modo o nell'altro, principio di identità, A è uguale ad A, principio di non contraddizione, se A è uguale a B, B non può essere diverso da A, su queste basi si stabilisce la logica e la dialettica che sono la stoffa della nostra filosofia, ma fra 4 e 500 questa filosofia ci si accorge che non funziona più e non funziona più perché non basta spiegare la realtà, perché ci sono delle leggi che non si spiegano con queste leggi matematico-filosofiche, mentre si spiegano con l'osservazione diretta. Come diceva Margherita Haack, se una cosa non si può riprodurre in laboratorio vuol dire che non esiste. Quando Galileo ascende sulla torre di Pisa, butta dei pesi dalla torre di Pisa e poi calcola la distanza tra la base della torre e il peso, non si affida a calcoli matematici, al contrario, misura queste distanze e sulla base di questo fa un calcolo matematico indotto per stabilire l'equazione giusta che esprime quest'atto fisico, però l'atto fisico nasce da un dato di esperienza, provando e riprovando, come era in motto dell'Accademia del Cimento. Queste sono le basi dell'Occidente, quelle reali, quelle concrete, le basi della nostra superiorità che io pronunzio con le S minuscole e fra virgolette. Qualcuno preferisce pronunziarle con le S maiuscole e senza virgolette, però di superiorità si tratta, perché è concepita come tale. Adesso se trovo un altro pezzetto ve lo leggo, perché anche questo, accidenti a questo che non ha messo l'indice, anche questo è importantissimo per la nostra cultura occidentale e se non capiamo queste cose l'Occidente resta una parola. Il pezzo che sto cercando, che forse non troverò perché quando si cerca non si trovano mai, molti di voi sono insegnanti, la sanno questa legge, è un'applicazione della legge di Murphy praticamente, è un brano di un discorso di Galileo che è assolutamente fondamentale. Assolutamente non viene. No, questa volta il giochetto, no, il giochetto che mi è riuscito con Fulcherio di Chartres non mi riesce con Galileo, d'altra parte io sono un medievista, quindi con le cose rinascimentali è meno, sono meno abile. Beh questo... Non so che sia verso la pagina 59, professore, perché vedo qui il citato Galilei. Che pagina è? 59. Forse il nostro soffrire forse è finito. 59. Beh, bravo, grazie. Allora, è il dialogo dei massimi sistemi e a parlare è quello che è l'alter ego di Galileo, Salviati, che si rivolge alla controparte, il signor Simplicio, dice il nome, non è granché come intelligenza, che è il difensore della scienza tradizionale fondata sulla dialettica, mentre lui è sostenitore di una scienza nuova fondata sull'esperienza. Però, signor Simplicio, venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni vostre o di Aristotile e non contesti e nude autorità, perché i discorsi nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile, non sopra un mondo di carta. Vuol dire, datemi degli esempi presi da Platone e Aristotile, non mi venite a citare Platone e Aristotile, questo non vuol dire nulla. E Galilei, dice l'autore del libro che è il professor Aldo Schiavone, è Galilei che fa parlare così salviati nel suo celebre dialogo, il dialogo dei massimi sistemi, 1610. Qui il dominio degli antichi è finito, il dominio degli antichi è finito. Quell'antichità martellante quasi a ogni rigo di cui ha scritto Eugenio Geren, altro studioso dei tempi nostri, allievo di Giovanni Gentile. Non c'è nulla che si debba imitare dagli antichi, questa è la modernità. C'è bisogno di scorta nei paesi incogniti e selvaggi, ma nei luoghi aperti e piani e ciechi solamente hanno bisogno di guida, scusate ho letto male, ma nei luoghi aperti e piani e ciechi solamente, è fiorentino, e ciechi solamente, cioè solamente i ciechi hanno bisogno di guida, gli altri si muovono bene perché ci vedono. E chi è tale è ben che resti a casa, ma chi ha occhi della fronte e nella mente di quelli si ha a servire per scorta. L'esperienza sensibile. E questo è il tallone di Achille della modernità. L'esperienza sensibile. Quante povere criste di donne sono state bruciate sul ruogo perché qualche persona, perfettamente in buona fede, affermava, testimoniava l'esperienza di averle viste volare. E su questa base i tribunali la condannavano. Era una base che avrebbe fatto ridere un uomo del medioevo, avrebbe fatto ridere un professore discolastica, ma fatemi il piacere come fanno a volare le donne, a meno che non ci sia poi un intervento demoniaco, bla bla, ma insomma. Vedete come funziona il progresso? In realtà si è inventato una nuova maniera per far passare qualche cosa che con la vecchia scienza sarebbe incredibile. E questo nuovo cavallo di Troia, è stato appunto l'esperienza. L'esperienza che ci ha fatto ripetere per secoli che la nostra superiorità tecnologica, che la nostra superiorità politica, che la nostra superiorità economica era anche una superiorità culturale ed era fondata anche su una superiorità religiosa, perché noi eravamo cristiani e portavamo il Cristo agli altri e col Cristo gli portavamo i portati di questa nuova scienza. Ora voi siete neanche cattolici e quindi potete anche dire, e beh, in fondo sì, ma attenzione, perché c'è una contraddizione in tutto questo. Qui stiamo parlando di un iter tra il 500 e il 700, qui stiamo parlando del tempo in cui avviene quel fenomeno generale in tutta l'Europa occidentale, non altrove, non in Europa orientale, non nel mondo ortodosso, non nell'Islam, non nell'ebraismo, non nell'induismo, non nello scintoismo, non nel taoismo, non nel confucianesimo e nemmeno nella cultura asteca, ma nella cultura europea occidentale, latino-germanica, che nel frattempo però si era scissa, perché c'era stata la riforma e la riforma aveva costituito un vulnus in qualche modo. Tuttavia questa primarietà del Cristo, quando si tratta di portarlo agli altri popoli e di fondare su questa conquista la legittimità delle nostre azioni, questo funziona, però funziona, eccolo il paradosso, funziona in una società che nel frattempo il Cristo o Dio lo sta relegando sempre più in un angolo, si passa da una visione teocentrica come era quella antica e medievale, anche antica pagana, prima di essere cristiana e poi passata al cristianesimo, si passa a un antropocentrismo che per forza di cose avvia nei confronti di Dio quello che gli specialisti di storia delle religioni e di filosofia e di antropologia definiscono il processo di secolarizzazione. Dio non è più il necessario garante del mondo e della storia, si può cominciare a fare a meno di Dio, si può cominciare a relegarlo in aree sempre più ristrette e a fare in modo che non esca di lì, quindi mentre l'Europa occidentale governa il mondo nel nome di una fede che è stata portatrice di innovazioni, questa fede viene a mancare proprio nell'Europa occidentale. E questo è un altro elemento su cui bisogna riflettere, proprio per arrivare ai giorni nostri e allora, in ultima analisi, perché altrimenti agli ebrei e palestinesi non ci arriviamo più. In ultima analisi cos'è successo? È successo che l'Occidente ha fatto agio su tutto il resto del mondo, il resto del mondo si è impadronito delle tecniche e della mentalità occidentale e adesso ce la sta restituendo, anche in termini di volontà di potenza. È passato il tempo dell'Europa coloniale che dominava il mondo, poi sono arrivati gli americani in supporto all'Europa che ormai stava decadendo, che è zoppicava, nel 1919 Oswald Spengler scrive Il tramonto dell'Occidente, perché lui tedesco è convinto che la Germania ha perduto la prima guerra mondiale, ma con la Germania l'ha persa tutta l'Europa. E allora Spengler dice, attenzione, avete poco da essere allegri, perché è cominciato il tramonto dell'Occidente, ma Spengler sottovalutava una nuova realtà occidentale che stava nascendo appunto a Occidente dell'Europa. Era la realtà che aveva cominciato col dire gli europei sono i nostri fratelli, gli europei sono i nostri fratelli maggiori, in particolare l'Inghilterra è la nostra madre primigenia, però stiano a casa sua, stiano a casa loro. Di creazione del Presidente Monroe, 1823, l'America agli americani. Gli Stati Uniti non desiderano di essere protetti dalla grande Europa, ringraziano, ma alla grande Europa gli hanno già dato una lezione, quando hanno dato un calcio nel sedere a sua maestà britannica con la guerra di indipendenza. Noi non ne vogliamo più sapere. Il continente americano, latino, ne rispettiamo la latinità cattolica, ma è il cortile di casa degli Stati Uniti. Per cui se c'è qualche furbo come l'imperatore Napoleone III, che mettendoci un imperatore posticcio come il povero Massimiliano d'Alsburgo, come Fantoccio, cerca di creare un impero francese in Messico, noi faremo in modo di cacciarlo. Naturalmente nei nomi di valori condivisi anche dagli europei, liberte, galite, fraternite, i messicani rivoluzionari, quelli che hanno fucilato Massimiliano, lo hanno fatto nel nome di principi che erano quelli della rivoluzione francese, erano quelli di Simon Bolivar che si è ribellato sulla base di quella dell'impero spagnolo. E poi naturalmente intanto gli americani si mangiano il Pacifico. Dopo i 1945 si sono mangiati anche l'Atlantico. E allora a quel punto l'Occidente ha cambiato di nuovo volto. L'Europa non è più l'elemento fondamentale dell'Occidente, ma deve tener conto anche di quella parte, qualcuno l'ha chiamato di Magna Europa, di Europa più grande, che sta al di là dell'Atlantico e che è strettamente connessa, culturalmente parlando, con una parte stessa dell'Europa, la cosiddetta anglosfera. Perché c'è una realtà storica, c'è una realtà linguistica, che lega l'Inghilterra e tutti gli elementi che riguardano l'Inghilterra, quindi il Commonwealth, che lega gli Stati Uniti d'America. Storicamente si è visto con la prima guerra mondiale, con la legge di affitti e prestiti. Quando l'America era rigorosamente neutrale, molti americani erano addirittura filo tedeschi, ma l'America aiutava solo l'Inghilterra. E a un certo punto, quando ha visto che il gioco era diventato troppo pesante, ci è dovuta entrare la prima guerra mondiale. Ed è stato un fattore determinante di vittoria. Stesso discorso, stesso copione nella seconda guerra mondiale. Dopodiché evidentemente noi abbiamo avuto un nuovo elemento che ci ha ricordato come l'Occidente sia una realtà a geometria variabile. Un nuovo elemento che a questo punto però non ci permette più di dichiarare che l'Occidente e l'Europa sono la stessa cosa. Vedete, nell'Ottocento un poeta tedesco del periodo di Napoleone, che era un fedele di Napoleone, era un suddito di un piccolo re tedesco alleato di Napoleone, però era nello stesso tempo cattolico e un grande poeta, Novalis, scrive un trattato, piccolo trattato, un saggetto, intitolato Europa, anzi, Christenheit oder Europa, cioè la cristianità, ovvero l'Europa. Si pone il problema di che cosa sia la cristianità e constata che la cristianità e la cultura europea sono le stesse cose. In fondo lui non si è spostato da un umanista del Quattrocento, fondamentale, che è Enea Silvio Piccolommini, Papa Pio II, che aveva scritto esattamente la stessa cosa, Christianitas idest Europa. E lo poteva anche scrivere perché in fondo in quel momento i turchi gli avevano mangiato la cristianità bizantina, restava la cristianità latina, restava quello occidentale, poi c'è stata la riforma e tutto il resto, poi c'è stato il processo di laicizzazione o di secolarizzazione. La Chiesa ha perso potere, il mondo cristiano non è più diventato la base della scienza. Voi leggete Dante, che scientificamente segue San Tommaso, che segue Aristotele, però è un Aristotele, intanto è un Aristotele arabizzato perché è letto nella traduzione araba di Averroè, ma poi soprattutto è un Aristotele cristianizzato, il mondo cristiano è esemplificato su quello aristotelico, è il mondo nuovo, no, il mondo nuovo è il frutto dell'osservazione, è il frutto delle scoperte geografiche, non è figlio d'Aristotele, è figlio del canocchiale di Galileo ed è figlio della vela mobile e dei cannoni, ha un'altra valenza, ha un'altra esperienza, ha un'altra valutazione della religione che viene strettamente ridimensionata, viene messa al servizio di altre scienze, mentre prima non lo era. E anche questo è l'elemento base della modernità. Quindi a questo punto i tempi sono maturi per poter capire che anche l'Europa non è più cristianità, ma è qualche altra cosa evidentemente, che l'Occidente non è più l'Europa, ma è l'Europa più alcuni paesi estereuropei che stanno a Occidente dell'Europa e questo senza dubbio qui la geografia ci aiuta. E questa è la situazione attuale, ma la situazione attuale passa attraverso il secolo americano, il secolo americano probabilmente finisce, non se ne rende conto, ma finisce quando cade l'Unione Sovietica. Quando cade l'Unione Sovietica accade la possibilità di dividere ancora il mondo in due emisferi, uno buono e uno cattivo, uno positivo e uno negativo, uno dominato alla libertà e l'altro dominato dal totalitarismo. E allora il potere della grande vincitrice di questa dinamica, che non è gli Stati Uniti, perché la seconda guerra mondiale l'hanno vinta sicuramente gli Stati Uniti insieme all'Unione Sovietica e poi ci sono divisi il mondo, ma l'Unione Sovietica a un certo punto si è dissolta o è stata dissolta, su questo ci stanno ancora lavorando gli studiosi. Comunque è finita, questo è equivalso al dominio definitivo degli Stati Uniti d'America sul resto del mondo? C'è chi l'ha creduto, il professor Francis Fukuyama ha scritto nel 1991 un saggio sulla fine della storia, la storia è finita, perché si è arrivati alla vittoria del liberismo, alle vittorie del capitalismo e tutti e due questi valori sono appoggiati alla grande forza geopolitica degli Stati Uniti d'America. A questo punto non c'è nulla da aggiungere alla storia, c'è solo da modificare, c'è da innovare, c'è da cambiare i pezzi della storia via via che si usurano, c'è da amministrare l'esistente, però le basi politiche, il predominio degli Stati Uniti, le basi economiche, il primato dell'economia nel mondo, della finanza nel mondo, della tecnologia del mondo, le basi dell'Occidente, tutto questo non si cambierà più. Francis Fukuyama scrive contemporaneamente più o meno al professor Huntington che scrive il libro sullo scontro di civiltà e lo scontro di civiltà deve naturalmente condurre alla vittoria definitiva dell'Occidente, perché naturalmente sarà così, con le forze positive intrinseche alla democrazia liberale, all'economia del dollaro, all'economia che non conosce più limiti perché si espande liberamente e allora eccoci all'elemento punto d'arrivo della struttura del pensiero occidentale, la distruzione del concetto di limite. C'era già in potenza nei marinai del Quattrocento e del Cinquecento, quando hanno capito una cosa fondamentale, che il mondo è infinito, anche se in realtà è una palla, ed è una palla che si è restretta perché si è imparato a esplorarla in tutte le sue parti, però nello stesso tempo è qualche cosa che dà il via a una ricerca infinita, si arriva a una linea d'orizzonte e dietro la linea d'orizzonte ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra, è il dovere dell'uomo è quello di Prometeo o di Ulisse di infrangere sempre le nuove linee d'orizzonte, di spostare il senso del limite, concettualmente di cancellare il senso del limite, è il messaggio che era già insito nell'umanesimo, uniusque faber, fortune sue, noi siamo padroni del nostro destino e il nostro destino è un destino concettualmente illimitato. Naturalmente però noi in questo processo avevamo incluso la dinamica del colonialismo, il rapporto con gli altri popoli, le cambiali che avevamo firmato con gli altri popoli, voi siete inferiori, noi vi faremo gradualmente diventare come noi, diventare come noi vuol dire che voi acquisterete anche i nostri diritti, calma eh, gradualmente, piano piano ci arriveremo, intanto restate soggetti e poi imparate, però i popoli poi a un certo punto hanno imparato che questo loro essere soggetti e questo loro imparare non portava necessariamente a una uguaglianza e allora hanno cominciato a chiederci il conto. Nello stesso tempo evidentemente paesi che non erano occidentali sono diventati culturalmente, economicamente, finanziariamente, tecnologicamente occidentali, in un altro modo, quando al secolo americano che è finito succederà, com'è probabile? Io non lo so, io personalmente non ci sarò, molti di voi non ci saranno più, la vita è fatta in questa maniera, ma arriverà il mondo, il momento in cui il mondo magari sarà egemonizzato da un'egemonia non necessariamente tirannica, non necessariamente negativa, anzi auguriamoci il contrario, un'egemonia che potrà essere l'egemonia cinese. Cosa vorrà dire questo? Che l'Oriente si è riconquistato l'Occidente, ma nemmeno per idea, perché da Oriente non ci arriverà la Cina che noi abbiamo conquistato, che era la Cina di Confucio o di Lao Tse, ci arriverà la Cina metabolizzata che conquistandola, perché conquistandola noi gli abbiamo offerto, in parte prestato, in parte regalato, in parte molto spesso ce lo siamo fatti pagare, comunque gli abbiamo offerto i portati della cultura occidentale, sarà un Occidente metabolizzato se volete, però questo dopo il secolo americano sarà quello che probabilmente succederà e noi siamo alle soglie di questo nuovo mutamento. La nascita del BRICS, sul quale i media occidentali per carità hanno glissato il più possibile, è la nascita di un mondo alternativo, non è soltanto riduttivamente che Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono accodati anche l'Iran e forse addirittura l'Arabia Saudita, nonostante sia notoriamente filoamericana, questo gruppo nuovo economico, tecnologico, finanziario si urterà contro la Nato o magari si sostituirà la Nato e il problema non è esattamente questo, il problema è che si sta avviando una nuova dinamica, il mondo governato dall'Occidente al quale noi siamo abituati si sta esaurendo e si sta avvicinando un mondo governato, si potrebbe dire da un Occidente di ritorno, quando l'Africa occidentale, la Nigeria, il Burkina Faso, il Niger stabiliscono che le multinazionali francesi se ne devono andare e che i beni del sottosuolo che attraverso le multinazionali francesi venivano ridefiniti e ridistribuiti tra le aristocrazie economiche europee e americane, questi beni resteranno agli africani e così evidentemente saranno nazionalizzati, queste sono le loro intenzioni, quello che succederà non lo so, ma queste sono le loro intenzioni, questi beni saranno nazionalizzati e andranno a costituire non più al 2% come è fino a oggi, ma magari al 70, all'80, al 90% la base per la ricostruzione, per la crescita economica e culturale di quei paesi, allora per forza di cose finirà anche il fenomeno dell'immigrazione, il fenomeno della gente va a ammazzarsi sui gommoni da noi perché non ci sarà più un motivo di venire dal momento che lo sviluppo potrà avvenire là, ma noi abbiamo blatterato per decenni che lo sviluppo gliel'avremmo fatto venire là prima o poi e non abbiamo fatto niente, perché in realtà i beni del suolo e del sottosuolo dell'Africa sono finiti alle elite, alle elite economiche e finanziarie dell'Occidente, in un mondo in cui la forbice tra i molto ricchi e i molto poveri si va allargando anche da noi, quindi non possiamo venire a dire sì ma ce ne siamo serviti noi, no, se ne è servito il 2% di noi e in cambio abbiamo rubato il 98% di ricchezze, vanno letti i programmi di Boko Haram, sono molto interessanti, perché ci dicono noi lavoriamo per liberarci sul delta del Niger, noi chi siamo? Siamo gli abitanti del delta del Niger, per le leggi internazionali che voi avete stabilito in termini di diritti dell'uomo? Noi siamo i proprietari del suolo e del sottosuolo della terra che abitiamo, perché questo dice il protocollo internazionale dei diritti dell'uomo, ogni ricchezza del suolo e del sottosuolo appartiene all'umanità dislocata nei luoghi dove naturalmente essa è insediata, noi stiamo nel delta del Niger, abbiamo diritto al petrolio, ai diamanti, all'oro, al coltan etc. E voi ce l'avete rubato fino ad ora, è l'ora che ce l'ho restituiati e allora a questo punto o si ridefinisce un sistema generale di ricchezza del mondo e di ripartizione in questa ricchezza o altrimenti si va incontro a un periodo di torbi, di guerre e di contese di un'entità della quale forse non abbiamo nemmeno intenzione. Sarà questa la fine dell'Occidente? Ma nemmeno per idea, se non ci fosse stata la grande rivoluzione occidentale non ci sarebbe stato nulla di tutto questo, l'eccezione occidentale è stata il motore degli ultimi 500 anni, ma di questo io da occidentale non mi posso né vergognare né dispiacere etc., solo che da uomo di questo tempo devo capire anche che bisogna a questo punto creare nuovi strumenti, nuove istituzioni, nuovi modi di rapportarci alla situazione internazionale. Siamo su questa linea? Probabilmente sì, lo siamo più di quanto non crediamo, però ci manca ancora la consapevolezza di esserlo, ecco perché noi giochiamo ancora con la contrapposizione di blocchi, non abbiamo ancora capito che su quella strada si fanno solo le guerre. E allora parliamo alla fine, sì, tutto sommato, che ore sono, 10 e mezzo? Allora c'ho mezz'ora, sopportate. Parliamo di uno di questi aspetti, che ci interessa molto, siamo tornati alla guerra, si diceva a me, mi hanno fatto una capa come una cesta quando ero al liceo dicendomi state tranquilli, tanto in Europa non ci saranno più guerre, la pace, la libertà, il progresso sociale faranno sì che tutte queste cose vengano spazzate via come le malattie, vivremo in un mondo senza più guerre, senza più mali, fratellanza eccetera eccetera. E poi ci siamo accorti che il mondo non era così, che il mondo era fatto di sfruttati e di sfruttatori a livello mondiale appunto e che questo naturalmente creava malessere, creava disagio, noi non lo sapevamo, noi credevamo che i nostri disagi fossero finiti ai 45, poi ci siamo accorti che la guerra è tornata in Europa e non come dice la signora von der Leyen c'è tornata nel 2022 con la guerra russo-ucraina che oltretutto era cominciata prima, semmai nel 2014, no no, era già cominciata con per esempio la crisi balcanica, quando nel 1998 è stata bombardata la città di Belgrado dai nostri aerei, l'onorevole D'Alema se ne vanta ancora, il comandante generale della Nato di quel momento, il comandante generale è sempre per statuto un generale degli Stati Uniti d'America, però ci sono i comandanti in seconda dei settori, il comandante del settore sud delle forze della Nato che era il generale Mini, il generale Mini se ne è andato per protesta, ha abbandonato il generale di colpo armato naturalmente, ha abbandonato il comando della Nato, è il relativo altissimo un monumento e ha scritto un libro contro la Nato pubblicato dalla terza, che è roba da allevare il pelo e che nella sostanza dice la Nato era nata, la Nato era nata, vabbè, non importa, la Nato era assorta per controbilanciare un immaginario pericolo orientale, c'era questo pericolo orientale, era reale? Certo c'era la potenza dell'Unione Sovietica e la potenza dell'Unione Sovietica a fine anni 50 aveva il nome del suo leader che è Josip Vissarionovic Giugasvili detto Stalin, scusate se è poco, però Stalin aveva dimostrato di essere abbastanza equilibrato anche nelle questioni per esempio della questione balcanica, era lui che aveva imposto attito di calmarsi con la questione delle terre italiane che lui avrebbe voluto incorporare e questo perché a Ialta le linee di confine fra Oriente e Occidente erano state stabilite e Stalin non era una persona particolarmente buona di cuore, almeno non mi risulta, però era uno che capiva realisticamente che ai patti conviene starci, se non altro perché altrimenti si passa dalla parte del torto, la Nato è nata, è sorta negli anni 50, all'inizio degli anni 50, 48 al 51 in vario modo e non è sorta per contrastare il pericolo sovietico, è vero il contrario, il patto di Varsavia appartiene a sei anni dopo, è la Russia e i paesi satelliti che sono corsi ai ripari perché la Nato è sembrata una realtà militare oltre che politica minacciosa e noi all'epoca non lo abbiamo creduto, vi racconto un pezzo della mia storia dicendo questo, noi abbiamo detto ma perché dicono, noi ci stiamo semplicemente difendendo, magari si farà una difesa forse preventiva, ora il concetto di difesa preventiva è piuttosto strano, però era il modo di ragionare di allora, quando poi abbiamo visto il patto di Varsavia un pochino abbiamo aperto gli occhi, persino noi ragazzi del liceo, abbiamo detto beh insomma questi hanno fatto un patto analogo a quello della Nato, ma come non l'avevano da prima? Perché altrimenti la Nato a chi ha risposto in termini difensivi, se adesso loro fanno una barriera difensiva, allora evidentemente la Nato non era una barriera del tutto difensiva e ce ne siamo anche accorti, perché nonostante le promesse fatte anche dell'allora Presidente degli Stati Uniti, le promesse fatte a Gorbachev anche se non sono mai state scritte, la Nato negli ultimi anni da quando è crollata l'Unione Sovietica, la Nato è arrivata ai margini della Russia attuale, quindi si è mangiata tutta l'Europa orientale, sono stati i popoli dell'Europa orientale che spontaneamente hanno voluto aderire a questo patto, voi conoscete le democrazie occidentali, quindi siete convinti che quando un governo fa una certa cosa è il popolo di quel governo che lo vuole, che lo chiede e quindi tutto questo è stato del tutto normale, ma siccome il confine Nato è anche il confine di una linea di fuoco, è una linea di fuoco e non scherza perché ormai è fuoco nucleare, si può anche capire che la Russia in quel momento si sta rimettendo in convalescenza, siamo dopo il crollo del 90, alla ricostituzione faticosa di una federazione russa e alla ricostruzione di una rete di rapporti anche amichevoli etc., che una cosa di questo genere come l'avanzata della Nato preoccupi la Russia che si sente ancora in convalescenza, a me francamente non mi sembra una esternazione di volontà aggressiva o di volontà di potenza. Quando Beppe Severnini scrive sul Corriere della Sera se non fermiamo Putin quello arriva fino a Berlino. Bene, Beppe Severnini io non mi intendo di eserciti di oggi, però mi intendo abbastanza di eserciti fino al 600 e ho visto per esempio che i turchi non ce l'hanno fatta a conquistare Vienna, ma se l'avessero conquistata avevano un corpo di cannoni raccoglitici, erano prede di guerra, avevano delle navi che erano decisamente inferiori alle navi occidentali, perché ormai i cantieri occidentali erano di gran lunga migliori di quelli orientali, questo fa parte della crescita dell'Occidente. I turchi a Vienna si sarebbero attestati nel 1683 esattamente come si sono attestati a Budapest nel 1541 e non avrebbero fatto un passo in avanti, perché non avevano gli strumenti, anche se avessero avuto la volontà, eppure anche allora c'erano i propagandisti che dicevano attenti perché i cavalli turchi si abbevereranno nelle fontane di San Pietro, poi l'hanno detto di quelli russi, perché i turchi vogliono conquistare Roma, Venezia e poi Roma, ed è vero che nel mondo turco c'erano dei propagandisti che dicevano bene, arriveremo alla Mela Rozza, arriveremo alla cupola di San Pietro, arriveremo a prenderla, sì sì va bene, sono cose che si dicono, ma gli strumenti non c'erano e nemmeno la volontà politica sovrana, il soltano non ci pensava nemmeno a voler fare queste cose, aveva già troppe gatte a pelare ad alternare il teatro di guerra del Mediterraneo orientale al teatro di guerra dei Balcani, figurarsi se voleva arrivare fino a Roma o a Parigi, ma il signor Severnini queste cose non le sa e va bene, non è un secentista, però è un uomo del nostro tempo, ci dovrebbe spiegare con quali forze Putin avrebbe dovuto arrivare, se l'avessimo lasciato fare, avrebbe dovuto arrivare fino a Berlino, queste cose le scriveva nella primavera del 2022 e trovava anche degli imbecilli che gli davano ragione, insomma qui bisogna essere a un livello bassissimo, non solo di informazione, ma anche di capacità di comprensione mentale e questa è la distrutturazione della nostra società, il problema è che i mezzi di informazione in mano alle classi dirigenti ci hanno privati del nostro essere società civile, progressivamente privati del nostro essere società civile, della capacità di discutere, della capacità di informarsi e di scambiarsi informazioni e si è creata una cultura ad hoc per impedirci di continuare a discutere, si è creato il politically correct, poi si è creata la cancel culture, si è ridotta la nostra possibilità di discutere liberamente e in questo contesto c'è qualcuno che si preoccupa se un segretario di un partito emana una circolare in cui proibisce ai membri del suo partito di parteggiare in una crisi internazionale per una parte diversa da quella per la quale parteggia il governo, cioè fa un atto che sarebbe stato considerato molto azzardato perfino in un partito unico totalitario e questo lo fa in un sistema per definizione democratico occidentale e nessuno dice nulla, è chiaro che nessuno dice nulla, perché gran parte di quelli che dovrebbero dire qualcosa tengono famiglia e sanno che dall'ossequio al segretario dipende il loro posto di lavoro o magari il loro posto dirigenziale, ma se siamo a questi livelli di democrazia addormentata evidentemente bisogna risvegliarsi. Una componente della nostra società è stata la questione ebraica. Come nasce la questione ebraica? Forse ce la faccio, come nasce la questione ebraica? La questione ebraica nasce fra il 60 avanti Cristo, ce la piglia larga, il 70 dopo Cristo e il 135 dopo Cristo. 60 avanti Cristo, Pompeo conquista Gerusalemme, chiede ai sacerdoti, ai principi sacerdoti della dinastia, dei discendenti dei Maccabei, che in quel momento governano Gerusalemme, di entrare nel Tempio, cioè di fare una cosa che poteva fare soltanto il gran sacerdote una volta all'anno. Pompeo, con tanto di corazza militare, chiede di entrare nella camera del Kadosh, nella camera del Santa Santorum, dove c'è la Shekinah, la presenza invisibile di Dio, camera buia, piccola, tutta coperta di lastre d'oro, entra, naturalmente ne esce, la illumina facilmente perché essendo lastre d'oro basta un accendino, lui non aveva un accendino, ma una lucerna sì, constata che non c'è nulla di visibile, torna e dice non è interessante, in fondo sono più interessanti i nostri tempi e se ne va. Nel 70 dopo Cristo gli ebrei si ribellano alla violenza romana, che era una violenza che era arrivata appunto a profanare il Tempio e l'imperatore Tito, per la verità l'esercito era di Vespasiano, ma Vespasiano l'aveva proclamato imperatore e ha dovuto tornare a Roma, aveva lasciato il governo al figlio, il governo dell'esercito al figlio, Tito assedia a Gerusalemme, la prende e pare incidentalmente scoppia un incendio nel Tempio, il Tempio è di pietra, però ha strutture profonde di legno di cedro, se leggete la Bibbia e il Deuteronomio capite come è fatto e quindi crolla. Gli ebrei restano in questa Gerusalemme dominata dalle rovine del Tempio, che stava dove ora ci sono le due moschee di Al-Aqsa e di Omar, in cima a quello che era il Monte Moria per la Bibbia, dove Abramo avrebbe dovuto sacrificare il figlio Esacco, quindi il centro sacrale del mondo ebraico, in cima c'è il Tempio e ci sono dopo il 70 queste rovine e restano lì fino al 135 dopo Cristo, quando dopo la cosiddetta seconda guerra giudaica, c'è stata una prima guerra giudaica, gli ebrei hanno cominciato ad andarsene dalla terra santa e a spargersi un po' nei dintorni. Scoppia un'altra guerra, arriva l'imperatore Adriano, lo so, voi obietterete, ma la Margherita Iorsen? Iorsen in Io Adriano non ne parla di questo episodio, ne accenna, ma molto vagamente, la Margherita Iorsen ha avuto molto ritegno a parlare del Tempio, perché in un primo tempo, quando lei ha cominciato a scrivere Io Adriano, l'Europa era l'Europa negli anni 20, allora si poteva ancora dire perché gli ebrei si erano ribellati, gli ebrei che erano sempre stati insofferenti e l'autorità era romana, negli anni 30 scoppia il problema del razzismo in Germania, la Margherita Iorsen Marra, viene a sapere da vie indirette amici che gli raccontano di persecuzioni, di confische, di esili, di uccisioni, non ha nemmeno la misura di quello che sta succedendo, ma capisce oscuramente che non è il momento di infierire contro la cultura ebraica e quindi nei Io Adriano voi non ci trovate quasi nulla della distruzione del Tempio da parte di Adriano, però il Tempio viene distrutto e gli ebrei vengono cacciati fuori dai confini dell'antico regno di Israele stabilito dai conquistatori ebrei che erano venuti dall'Egitto al tempo di Giosuè, quindi nel 1400 più o meno avanti Cristo e che poi avevano creato la grande monarchia di Davide, di Salomone etc., dopodiché questa monarchia si era frammentata, poi erano arrivati i gresci, poi erano arrivati i romani, alla fine gli ebrei si erano ribellati, erano stati vinti due volte e cacciati. Adriano stabilisce che nei territori che loro chiamavano terra di Israele, Erez Israele, gli ebrei non ci potevano più rimanere, non è che gli danno retta, alcune colonie, è importante ci ritorno perché spiega anche l'oggi, alcune colonie ebraiche restano, per esempio sul lago di Tiberiade restano le colonie delle città, tipo Tiberiade stessa o altre, che fanno poi, diventano i capisaldi della cultura del Talmud, cioè della cultura della lettura della Bibbia da parte dei rabbini che sono proposti a diffonderla. Però molti ebrei, vanno dappertutto nell'impero romano, prendono anche la cittadinanza romana, San Paolo, era un ebreo di Tarso oggi in Turchia ed era un cittadino romano, poi arriva l'editto di Caracalla nel 161 e tutti gli abitanti dell'impero diventano cittadini romani, però ci sono anche degli ebrei che sono andati oltre l'impero romano, sono andati in Persia, sono andati in Egitto, sono arrivati fino alla Cina, si sono dispersi, dispersione come sapete in greco si dice diaspora. L'ebraismo della diaspora continua a coltivare la cultura ebraica, ma nello stesso tempo è una cultura ebraica in terra straniera e accoglie per forza di cose anche le varie culture dei vari paesi dove gli ebrei sono finiti. C'è anche una parte degli ebrei che resta ostinatamente all'interno di Eretz Israel e questi subiscono il destino della gente che resta nel vicino Oriente. L'impero diventa cristiano e questi ebrei in gran parte si cristianizzano anche loro e devono fare, anche perché i cristiani non sono teneri con gli ebrei e vogliono rimanere tali. I cristiani mica sono razzisti, mica pensano che gli ebrei hanno una tara fisiologica al loro interno, poi sono semplicemente che sono nemici del Cristo, se si convertono c'è essere nemici del Cristo, questo è ovvio. Quindi c'è una crescita dell'ebraismo e anche della cristianizzazione degli ebrei nel mondo romano. Poi arrivano i musulmani e questi ebrei, magari fatti cristiani, che erano rimasti in Palestina diventano anche musulmani. E allora si crea il primo paradosso col quale ci si trova a dover fare i conti, anche se non compare da nessuna parte. Probabilmente i veri ebrei, poi diventati cristiani, poi diventati musulmani, sono in realtà piuttosto i palestinesi, in gran parte, perché poi sono arrivati anche gli arabi che si sono fusi con i palestinesi. Dall'altra parte che cosa ci sono? Gli ebrei di cultura, diciamo così, cioè gli ebrei che sono andati fuori dai confini dell'ebraismo, hanno creato degli ebraismi nuovi, si sono anche fusi con le popolazioni locali, sono diventati altra cosa. Hanno anche abbandonato l'ebraico come lingua di cultura ordinaria, l'hanno mantenuta magari come lingua di cultura sacra, per leggere la scrittura, però nello stesso tempo hanno imparato le lingue volgari del luogo. D'altra parte si sono fusi con gente che non era ebrea, cosa succede a un ebreo che sposa una non ebrea? Succede che i suoi figli non sono più ebrei, lui può fare qualcosa per farli restare culturalmente ebrei? Certamente gli può insegnare la cultura ebraica, ma loro saranno sempre soltanto dei proseliti, non diventeranno mai ebrei, ma hanno una possibilità, se sposano una donna ebrea, siccome l'ebraismo si trasmette per via femminile, i figli ridiventano ebrei, quindi un marito proselita che è diventato ebreo di religione, ma non è riconosciuto come parte del popolo ebraico, sposa un ebrea, lui resta un ebreo di religione non parte del popolo ebraico, nella Germania nazista c'erano gli ebrei di religione che non erano però parte del popolo ebraico ed erano ammessi e appartenevano alla cultura e alla società del Terzo Reich, potevano iscriversi a partito nazionale socialista, si chiamavano tedeschi di fede mosaica, non erano molti ma c'erano, certamente però se erano sposati con un ebrea dovevano divorziare, però i figli nati per l'ebraismo erano a loro volta ebrei, ma finalmente per le leggi del Terzo Reich questo era irrilevante, ebrei, il mondo è molto più complesso di come pare, questi ebrei nel corso dei secoli vengono fatti oggetti di persecuzione, nel mondo medievale sono trattati da decidi, da stranieri in patria, hanno una cattiva fama perché hanno la fama di essere degli usurai, anche se non è vero, loro prestavano a credito a tassi di interesse molto inferiore ai cristiani, ma è proprio questo che li rendeva odiosi nelle città cristiane, perché i banchieri cristiani li vedevano come dei concorrenti pericolosi e facevano una concorrenza sleale, e naturalmente non potendo far nulla dal punto di vista economico, lo potevano fare dal punto di vista religioso-culturale, gli ebrei ammazzano i bambini, gli ebrei uccidano i bambini e con il loro sangue ci impastano il pane azimo per i loro riti, gli ebrei sono in combutta con il demonio, eccetera, 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 roghi di ebrei ci sono stati come dei roghi delle streghe, eccetera, tutto questo è andato avanti nella nostra cultura, si è radicato anche nel mondo russo, soprattutto quando con l'avvicinamento dopo Ivani Terribile e soprattutto con Caterina II, 700, i russi sono entrati in contatto sempre più stretto con gli europei e allora è nato anche questo elemento nuovo che è insito nella nuova cultura europea e che porta all'anti-ebraismo, all'anti-giudaismo, come si dice di solito, un tassello che mancava, questo tassello voi lo vedete, lo leggete, se per esempio leggete la voce ebrei ed ebraismo nell'Encyclopedia Philosophique di Voltero. L'ebreo, questo lo diceva già Martin Lutero, è strutturalmente diverso dal cristiano, lo si vede perché ha dei segni, segni somatici, segni fisiologici, addirittura un particolare odore, fetor iudaicus, lo diceva già il dottor Lutero, sapete lui era abituato a mangiare grazie animali, soprattutto suini, a contatto con gente che si nutriva l'olio d'oliva, avvertiva un odore nuovo nel sudore di certi esseri umani che a lui riusciva sgradito, fetor iudaicus, sulla base di questo se c'è un fetor iudaicus vuol dire che c'è una qualità fisiologica diversa negli ebrei, hanno voglia di convertirsi, restano ebrei e su questo poi l'Ottocento ci ha intervenuto con la sua scienza, misurando i crani, stabilendo le filiazioni raziali sulla base di quelle linguistiche e l'anti-giudaismo è diventato antisemitismo e tutto questo si è radicato soprattutto molto profondamente nel mondo russo e nel mondo russo l'inimicizia per l'ebreo che era un piccolo prestatore di capitale ai contadini si è andata saldando con un'inimicizia borghese nei confronti degli ebrei che era una sorta di intelligenza locale e allora per esempio la polizia segreta dello zar ha cominciato a perseguitare sistematicamente le colonie ebraiche a incoraggiarle ad andarsene e gli ebrei se ne sono andati verso la Romania, verso l'Ungheria, poi verso la Francia e dovunque arrivavano erano ben accolti perché erano bravi lavoratori, bravi artigiani, tagliavano i diamanti come hanno insegnato a tagliare i diamanti a tutta l'Olanda e quindi a tutta il Sudafrica, ma questo finché erano pochi, quando hanno cominciato a diventare troppi, a invadere i ministeri, le università, a diventare anche consiglieri dei politici, se vi capita nei cineforum oggi come oggi si trova tutto anche online, riguardatevi un film, uno dei migliori fra l'altro fatto, un film propagandistico fatto in epoca nazista che si chiama Suss l'ebreo, che è la storia del signor Suss che era consigliere e tesoriere del re di Sassonia e che era un uomo bieco, intrigante, un po' fatto sul modello dello Shylock di Shakespeare e questa era la cinematografia nazista che doveva fornire il supporto informatico telematico al razzismo che stava diventando una specie di legge di Stato. Ora, man mano che gli ebrei arrivano dalla Russia vengono guardati sempre più con antipatia e nasce il fenomeno antisemita, il fenomeno antisemita non c'è in affermarsi e alla fine gli ebrei che spesso sono di cultura elevata pensano di organizzarsi. Nasce il movimento sionista, Theodor Herzl, il suo libro del 1800 e non ricordo quanto perché ora comincia a essere tardi, che parla del futuro stato ebraico, Herzl dice proprio questo, scrive negli anni settanta e dice adesso io vi dico che sarà necessario creare uno stato ebraico dove gli ebrei finalmente, che sono un popolo senza terra, trovere una terra senza popolo che li accoglie perché nella nostro tentativo di trovare terre, abbiamo sempre trovato terre popolate da gente che non ci vuole, allora abbiamo bisogno di una terra nostra, quando la troveremo fonderemo uno stato e adesso io scrivo queste cose e voi ridete di me, tra cinquant'anni non riderete di più, queste cose le scriveva negli anni settanta dell'ottocento, il movimento sionista arriva naturalmente anche nel vicino oriente, anche perché i sionisti lo dicono chiaramente, loro non sono più nemmeno religiosi, perlomeno non tutti, non hanno un interesse prevalentemente religioso nel loro voler costituire una società libera fatta di soli ebrei, il loro interesse è culturale, è sociale, è politico, Eretz Israel è la loro patria d'elezione, come si salutano gli ebrei quando si incontrano l'anno prossimo a Gerusalemme. Gerusalemme è il sogno degli ebrei che per secoli è stato un sogno religioso, legato quindi alla nuova Gerusalemme, alla Gerusalemme che ci sarà alla fine dei tempi, quella che scenderà dal cielo di cui parla l'Apocalisse, ma loro erano gente del nostro tempo, erano spesso degli atei o dei non religiosi, la Gerusalemme loro alla fine cercano di finire, la identificano con la Gerusalemme effettiva e hanno fortuna in un certo senso, perché la Gerusalemme dell'Ottocento è un piccolo paese arabo, non particolarmente evoluto, privo di strade, ferrovie nemmeno a pensarci, ospedali, scuole e abitato da un popolo che è quasi ancora quasi seminomade, un popolo più di pastori e di agricoltori, pochissimi agricoltori perché il luogo è arido e allora quando arrivano i primi sionisti, i funzionari del Sultano lo dicono immediatamente a Sultano, a Istanbul, c'è della gente che arriva all'Europa e dicono di essere ebrei e si vorrebbero stabilire in Palestina, questo è un modo per sollevare la Palestina dallo stato di depressione in cui si trova adesso e che noi non abbiamo gli strumenti né economici né tecnologici per risolvere questo problema, ma arriveranno loro, spesso hanno anche capitali, hanno interessi, hanno cultura e succede proprio questo, arrivano medici, arrivano ingegneri, arrivano architetti, arriva gente che comincia a irrigare, che comincia a piantare dove c'è l'arido, che cominciano a fare perché il clima sta migliorando, siamo a metà ottocento, siamo usciti dalla piccola glaciazione che è finita alla fine del Settecento, il tempo sta migliorando, non è ancora caldo come ora, ma il trend c'è e quindi in ascendenza si comincia a coltivare la terra, i padroni della terra che sono nobili arabi la vendono volentieri, gliela vendono a sovraccosto e loro la comprano e sono contenti dell'insegnamento e mandano naturalmente i loro sudditi a lavorare con gli ebrei, i loro sudditi sono contenti di andare a lavorare con gli ebrei perché gli ebrei tendono a liberarli dalla condizione pastorale, a farli diventare contadini e quindi a dargli un strattamento economico migliore e nasce così il mondo del vicino Oriente, soprattutto della provincia della Palestina, governata a Sultano, che è un mondo in cui il lievito è un lievito sionista, anche perché ci sono i medici, ci sono i maestri di scuola, c'è gente che è umanitaria e quindi queste cose le fa anche per passione, non le fa per soldi e sono ben voluti dalla popolazione araba, ma cosa succede? Succede che cominciano a diventare troppi, succede che cominciano anche loro a figliare, anche se non tanto come gli arabi, succede che cominciano anche a organizzarsi e gradualmente gli arabi cominciano a preoccuparsi e trasmettano questa preoccupazione alle autorità sultaniali, le quali le autorità sultaniali hanno ordine dal sultano di lasciar fare gli ebrei, di dar loro fiducia, tanto più che nel frattempo arrivano anche ebrei blasonati e soprattutto arrivano dai paesi, a quel punto dai paesi occidentali, soprattutto dall'Inghilterra. La Regina Vittoria capisce che questo è un mondo in crescita e che quindi bisogna metterci delle adeguate pedine all'interno, perché? Perché la Regina Vittoria è regina d'Inghilterra, ma dal 1876 è anche imperatrice delle Indie e la via marittima che dall'Inghilterra porta alle Indie passa per il canale di Suez, che è vero che è stato scavato dai francesi nel 1869, ma è anche vero che nel 1870 Napoleone III ha perduto la battaglia di Sedan contro i prussiani e è stato costretto a vendere le azioni del canale di Suez e la Regina Vittoria le ha comprate e per forza le doveva comprare, perché era la via maestra per arrivare all'India e a quel punto tutti i paesi che interessano l'area, a cominciare evidentemente dall'Egitto e dalla Terra Santa, sono paesi nei quali sua maestra britannica, mette una zampa e la zampa che la Regina Vittoria mette a Gerusalemme si chiama Sir Moises Montefiore, è un membro della Camera dei Lord, ebreo, d'origine evidentemente rivornese, Montefiore, se andate a Gerusalemme c'è un quartiere Montefiore, è quello molto bello, fuori dalla porta di Jaffa c'è un mulino, perché il primitivo insediamento ebraico era un piccolo paese, aveva anche il mulino per essere, mulino al vento naturalmente, per essere autonomo dal punto di vista elementare, e gli inglesi cominciano a organizzarsi, del resto l'Egitto, in Egitto c'è ancora un governatore del sultano, ma praticamente l'Egitto è progressivamente sempre più in mano inglese, e a quel punto gli inglesi cominciano a organizzarsi nella prospettiva di prendere quei paesi e organizzarli sotto il loro sistema coloniale, si comincia a pensare alla ferrovia, la ferrovia all'Oriente Espresso, la ferrovia che arriva a Istanbul, poi da Istanbul deve arrivare fino a New Delhi, perché deve essere la ferrovia dell'impero britannico, e quindi deve passare dalla Terra Santa, e quindi bisogna organizzarsi, ci si organizza naturalmente d'accordo con la grande potenza tecnologica del tempo, la Germania, e però poi quando cambia il governo, cade Bismarck, che era molto filo inglese, o che faceva una politica filo inglese, Guglielmo II segue, non fa la stessa politica, e allora le cose cambiano, nel frattempo gli arabi sono sempre più preoccupati, perché i sionisti cominciano ad essere troppi, ormai a forza di comprarli il paese li hanno quasi espropriati, si trovano a essere ormai subordinati in casa loro, e allora comincia la guerra, comincia le prime sfucilate, i primi ammazzamenti, i primi sgozzamenti, siamo all'inizio del Novecento, con la prima guerra mondiale il problema ebraico palestinese scoppia, peggiora col 45, con l'arrivo di nuovi massicci, invii da quelli che sono reduci dalla Shoah, e però quelli che sono reduci dalla Shoah si portano dietro un altro tipo di patrimonio, magari non sono ebrei così ricchi come quelli che venivano prima, sono ebrei poveri spesso, avete visto tutti i film Exodus, spesso cacciati, però hanno un patrimonio che è il loro elemento di forza per il futuro, la memoria della Shoah, e il fatto della memoria della Shoah dopo il 45 diventa la coscienza profonda dell'Occidente, e la coscienza profonda dell'Occidente rende tutti gli occidentali debitori di Israele, non debitori dello Stato di Israele, ma debitori dell'ebraismo, ma l'ebraismo nel frattempo ha trovato un rappresentante. Dopo la prima guerra mondiale la Giudea, Israele, la Giudea, la Samaria e la Galilea, insomma tutta quell'area che poi diventerà Israele, è in mano agli inglesi, perché gli inglesi l'hanno conquistata, mentre i francesi hanno conquistato la Siria, quindi bisogna organizzarla, ma ormai il colonialismo classico è finito, non si possono stabilire delle colonie, il mondo sente che le colonie sono fuori tempo massimo, quelle che ci sono va bene, ma non si dovranno pur farne di nuovi, è la ragione per cui la società delle Nazioni ha fatto guerra all'Italia nel 35, non si possono costruire nuove colonie ormai, e allora bisogna fare piuttosto dei protettorati che avvino i popoli all'autogoverno. Regime dei mandati, mandati francesi in Siria, mandati inglesi in Egitto e in Terra Santa. Purtroppo il governatore inglese di Terra Santa è costretto ad assistere alla prima guerra civile fra arabi ed ebrei e non sa che pesci prendere, però tendenzialmente tende a dar ragione agli arabi, in fondo gli arabi c'erano da prima, questi li hanno preso tutto, in parte con le buone, con le cattive, con l'inganno, con le lusinghe, ma forse avevano ragione loro e d'altra parte gli ebrei rispondono organizzando una guerra di guerriglia, una guerra di terrorismo, l'Irgun, la banda Stern, l'Hotel David, il King David Hotel, che è l'hotel più bello e più moderno di Gerusalemme, che nel 31 viene fatto saltare per aria dalla banda Stern, tra cui c'era anche il futuro presidente Begin, una delle varie bande terroristiche ebree, perché gli inglesi favorivano sempre più gli arabi? Guerra civile, a un certo punto gli inglesi se ne lavano le mani, fanno un bel libro bianco in cui dicono la Palestina è in subuglio, è in subuglio perché i coloni ebrei ormai si comportano da padroni, gli arabi si sentono soggetti anche se sono la maggioranza del paese, si occupano la maggioranza del paese, bisogna fare due stati, nel frattempo però noi ce ne andiamo, 1948, gli inglesi ritirano il mandato, se ne vanno e a questo punto lasciano nel loro libro bianco una proposta di spartizione del mondo palestinese in due, tra arabi ed ebrei. Una spartizione non può funzionare, anche perché loro, sapendo che questi faranno la guerra civile, hanno fatto in modo di non creare due realtà compatte, ma di creare delle realtà che si intersecano fra loro e il risultato è che i due stati che nasceranno non potranno mai fare una politica coerente, nella mentalità di chi ha creato questo marchigegno c'è della logica, se non potranno fare politica indipendente perché c'è una regione araba, una regione ebrea, un'altra regione araba, un'altra regione ebrea, è evidente che si dovranno mettere d'accordo fra loro, se non altro per commerciare, se non altro per utilizzare le strade, c'è della logica in tutto questo, ma questa logica non viene colta. Gli ebrei capiscono, perché in fondo sono degli europei, leggono i giornali europei, conoscono le lingue europee, sanno che cos'è la società delle nazioni, capiscono che se vogliono incidere sul futuro e garantire il loro stato, debbono accettare questo stato di fatto suggerito dagli inglesi, che è demenziale e dicono per quanto sta a noi accettiamo, la distinzione fra i confini tra i due stati, quello ebraico e quello arabo, così come ce le ha proposti il mandato inglese, li facciamo nostri e stabiliamo, 14 maggio del 1948, stabiliamo la nascita dello stato ebraico di Israele, lo chiamiamo naturalmente il stato ebraico di Israele. Finisco. Io voglio tentare un'impresa disperata, tento di fermarla un attimo. ma mi fermi ad arrivare al punto. Allora, 14 maggio del 1948 si crea lo stato di Israele, lo stato di Israele viene visto naturalmente di buon grado da tutti gli ebrei della diaspora, da molti paesi, a cominciare dalla Russia, Stalin determinante nello stabilire in sede di società delle nazioni, che bisogna dare un voto favorevole a questa nuova costruzione. bisogna dire, e questo è l'elemento fondamentale, poi il resto è cronaca e io non ve la posso fare tutta, a meno che non accettiate di far nottata, e a questo punto loro, gli ebrei, dicono ai loro fratelli coltelli, avversari nemici, perché in fondo lo sanno di essere affini, entro certi limiti, perché i nuovi coloni sono più dei russi o dei tedeschi che non degli ebrei nel senso medievale o antico del termine, comunque c'è una base comune, c'è una religione molto simile, perché l'Islam e l'ebraismo si somigliano, quindi non gli dicono andiamo d'accordo, suggeriscono, facciamo uno stato nostro che così entrerà nella Lega delle Nazioni e potrà parlare, e quello che dirà avrà un valore internazionale, dicono ai capi arabi, fate lo stesso, create uno stato palestinese arabo, anche voi entrerete nello stato nella Lega delle Nazioni, dopodiché i nostri guai territoriali li discuteremo fra noi, magari anche facendoci la guerra, però in un contesto internazionale che ci avrà riconosciuto, gli arabi non l'accettano, il grande errore lo fa soprattutto quello che era il più ascoltato, anche se era stato durante la guerra dalla parte che aveva perduto, dalla parte dei tedeschi, che era il gran mufti di Gerusalemme, ma era pur sempre l'autorità musulmana più alta di Gerusalemme, era un uomo di grande saggezza, di grande cultura, di grande reputazione, molto stimato, e lui è il primo a dire, gli altri lo seguono, no. La terra di Palestina, Filistum in arabo, come la terra dei Filistei, che c'è già nella Bibbia, la terra di Palestina è terra araba, questi sono degli intrusi, potranno anche rimanere se vorremmo, però noi uno stato non lo facciamo perché questa è terra nostra, non riconosciamo lo stato di Israele, e gli stati vicini che nel frattempo hanno creato la lega araba, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Yemen, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, che hanno degli eserciti moderni, ben addestrati, a capo della legione araba del regno di Giordania, che era un regno uscito dalla prima guerra mondiale, un capo beduino era diventato re, col permesso inglese, che era il re Abdullah, il bisnonno dell'attuale Abdullah II, il capo della legione araba era un lord inglese, molto noto, il generale Gloob, scritto Gloob, che veniva conosciuto col vecchio nome turco dei capi militari della zona, come Gloob Pasha, la legione araba era di un'efficienza, di un coraggio, di un armamento straordinario, questi eserciti, 150 mila uomini ben armati in tutti, convergono contro la piccola Haganah, il piccolo esercito civile, poi era diventato in fretta e furia l'esercito dello stato ebraico, che aveva una centina di migliaia di effettivi mal armati, mal organizzati e soprattutto dal punto di vista logistico facevano acqua a tutte le parti, però tengono e riescono ad arrivare a una pace abbastanza onorevole, dopo la quale si ha un mutamento nella struttura degli stati. Lo stato di Israele riesce a fare una realtà compatta dalla Galilea fino al deserto del Negev, mentre gli arabi sono costretti a accontentarsi della Cisgiordania e della Stiscia di Gaza. Poi ci sono le quattro guerre, poi ci sono varie vicissitudini, che io non posso raccontare, almeno in questo momento, e poi si arriva evidentemente all'ultima fase, quando con un governo nuovo, dopo quattro guerre e vari tentativi di pacificazione e la pace di Oslo del 1893, quando sembra che finalmente i popoli arabi e i popoli ebraici possano andare d'accordo, e le cose tornano a carte 48 per il governo continuato di un esponente della destra politica israeliana, che è Netanyahu, il quale fa di tutto per sabotare il processo di pace. Da questo nascono le difficoltà che sono scoppiate ultimamente. L'Unione delle Nazioni, l'ONU, riconosce la liceità dello Stato palestinese, ma ormai questo Stato palestinese è in gran parte soggetto all'occupazione ebraica. E allora evidentemente si stabilisce un'autority palestinese provvisoria, che deve governare amministrativamente, però i palestinesi litigano fra loro e tagliano il loro paese, che del resto era anche geograficamente non unitario, perché c'era un blocco cisgiordano a nord-ovest e la fascia di Gaza a sud-est e nel mezzo c'è Israele. E quindi già questo costituiva un elemento difficile di governo per un futuro Stato autonomo, che per il momento non c'è. A questo si è associato la divisione e l'inimicizia, fra un nord dove ha vinto il partito di Al-Fatah, l'organizzazione della liberazione della Palestina, partito di struttura nasseriana, per cui prima si è palestinesi e poi si è cristiani o musulmani, come si vuole, e a sud vince Hamas, che invece è un partito esclusivamente musulmano e non è soltanto un partito, ma è anche un'organizzazione sindacale, ma è anche un'organizzazione politica e tra l'organizzazione della liberazione palestinese, che governa in Tri Giordania, attualmente la capitale Betrem, e la striscia di Gaza si stabilisce un rapporto di inimicizia che si somma al grande problema del rapporto ebraico palestinese. Questo è il quadro da cui emerge la situazione che è nata apparentemente per caso, o comunque non ce l'aspettavamo, col colpo di mano di Hamas del 7 ottobre che ha comportato poi l'assedio di Gaza, etc. Ecco, questo è quello che si può dire a questo punto, anche per evitare evidentemente sia sommosse di popolo, sia anche per garantire forse anche un po' di dialogo. Bene, ho dovuto finire il discorso. Allora, io ringrazio a tutti, sull'ospita dove posso giocare a 7 ricordo appunto quanto questa settimana abbiamo iniziato con Cristo Re, affidiamoci a Cristo Re e a forza al rimando che più undicesimo scrive proprio dicono che la Palestina è la terra del Calvario di Nostro Signore. Quindi preghiamo in quest'ottica e in quest'ottica riconosciamo quel diritto che quanto figli di Dio ha il popolo pastese di esistere in quanto terra santa per interrare il Calvario di Nostro Signore che dell'ingiustizia umana è stata prima il modello di purtroppo esemplare vittima. Vi ringrazio a tutti e vi auguro buonanotte. Buonanotte. Grazie.